Voi dite un'ora, un luogo e una vittura, edo vi da cinque settimane. Questi cinque settimane accade ciò che è accade, non vi capio, è qui, mai vi dico io. Dopo edo, la vostra vittura non si assomiglierà mai più a qui da un altro. Si chiama Gigi, Gigi Tuning e Corso, un amico armato ma è d'arretta ai Francis. Sti quattro inculati di Francis e quando è aperta caccia, è sempre l'ora Gigi Tuning. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.